è ora però non vi può c4 di un c4 ha preso la mina supporto è sulla porta che stai su cirena l'andrea ma giu attenti io stai la mente stai la mente io è andato uno termite chissà e asci c'è anche asci asci e zodi liriano non morire non morire mettiti di pressione esatto sei morto su quelle c4 almeno c'hanno uno indietro gianni devi andare alla porta che l'ha la dai non morire non morire basta resta la sta plantando vai dici 4 vai dici 4 no tutte e due con i fish vai vai liriano vai mamma mi vabbè va non è che tu fai vai liriano vai che te lo fai te lo fai bravo liriano vai 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 te la piglia te lo li tirou no va ma ne era inferimento chissi scusate no puscelo se non ce la fai con team disinnescatore individuato a clemore a clemore a clemore a clemore no non ce la fai più non ce la fai più no no non ce la fai ce la fa ce la fa come ce la fa tre tre ma uol ma qua to stai accisa capitano cremati risuscitate вообще una volta bellouso uomo mamma ma ha 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 ちょっと